Aset sta per cimentarsi ad affrontare il secondo ciclo di portature verticali dopo i positivi risultati ed il gradimento dei cittadini che hanno potuto effettivamente constatare la differenza tra il prima e il dopo accordo 2200 piante delle 14.000 censite dal comune riceveranno le dovute attenzioni delle squadre che opereranno in 86 siti tra vie e piazze della città di Fano Intanto oggi è stata una conferenza stampa un po' numerosa affollata perché come scelta abbiamo voluto portare gli operatori quelli che si sono sacrificati durante questo periodo. Stagente qui quest'estate con le temperature che c'erano con le modalità operative che c'erano quindi lavorare dietro le strade, gli sparti traffici e quant'altro era 9 del mattino e già erano completamente matiti di sudore quindi mi è sembrato in pratica un modo anche per riconoscere la fatica silenziosa che hanno fatto queste persone. Quest'anno invece abbiamo il periodo pieno quindi parliamo del primo novembre fino al 31 marzo la differenza è che l'anno scorso abbiamo fatto 1400 potature, quest'anno ne faremo più di 2000 ed è un limite che ci può in qualche modo, può essere in qualche modo disturbato solo dalle condizioni atmosferiche perché non dobbiamo dimenticare le modalità con le quali questi signori lavorano quindi piattaforme ad altezza di 14 metri 16 metri e quant'altro quindi situazioni anche dove bisogna essere sempre presenti a se stessi nel vero senso della parola. A disposizione dell'utenza un numero verde 800 995 070 per le segnalazioni che verranno valutate con sopralluogo ed una risposta diretta al segnalatore sul da farsi. È sempre stato, la cura del verde pubblico, il tallone d'achile delle amministrazioni fanesi strangolate dai costi di gestione. Lo stesso Seri nella prima parte del suo mandato ha ingoiato rospi amari a questo riguardo. Giardini, siepi e i uoli pubbliche incolte e trascurate brutta immagine si diceva da dare ai turisti oppure con devastanti operazioni di capitozzatura di alberi che rendevano il paesaggio, vedi Viale Cairoli, una landa desolata dopo un'esplosione nucleare o come sulla Fano Fosso Seiore definita da molti in quel periodo l'Amazzonia fanese. Allora ecco, posso oggi esprimere soddisfazione perché è una risposta vera. La gestione del verde è una questione di decoro, anche un biglietto da visita per la città e anche la questione di sicurezza se pensiamo alle potature degli alberi. Anche su questo le varie emergenze sono state affrontate. Adesso c'è un piano ordinato che dura 4 anni e ogni 4 anni si fa il giro di tutti gli alberi in carico all'amministrazione comunale. Quindi ASE, devo dire, ha fatto veramente un bel lavoro e un grazie a coloro che hanno operativamente lavorato su questo e la soddisfazione di aver fatto la scelta giusta per la gestione del verde.